Danni alle culture e alle attività agricole, agli allevamenti, all'ambiente e alla viabilità. Li producono con sempre maggiore frequenza i cinghiali. Una legge regionale, approvata dall'Assemblea su proposta del consigliere del PD Vincenzo Robortella, disciplina gli interventi regionali per fronteggiare questa emergenza. Ogni anno la Giunta regionale, con il parere dell'ISPRA, approverà un piano per il prelievo selettivo dei cinghiali. L'utilizzo delle diverse metodologie di caccia verrà deciso dalla Regione in accordo con gli ambiti territoriali di caccia, nel rispetto del calendario venatorio. Le azioni condotte saranno poi esaminate per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche. La Regione, inoltre, intende favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e alla valorizzazione della risorsa.